buongiorno a tutti e ben ritrovati sono stefano franchi avvocato e oggi riprendiamo insieme gli incontri in materia di tutele giuridiche per la non autosufficienza lo facciamo dopo oltre un anno di assenza e in una modalità particolare a distanza ma l'importante è ricominciare a fare formazione e informazione su queste tematiche specialmente in tempi particolari come quelli che stiamo vivendo oggi ci focalizzeremo sull'istituto di protezione dell'amministrazione di sostegno che oltre a rappresentare una tutela per le persone fragili in particolare quelle affette da patologie cronico degenerative a maggior ragione se comportano a decadimento cognitivo può rivelarsi un validissimo strumento anche per i familiari che gli prestano assistenza i cosiddetti caregivers come usa dire oggi consentendogli di risolvere svariati piccoli e grandi problemi che si possono presentare in queste situazioni bene cerchiamo dunque di capire insieme in che cosa consista l'amministrazione di sostegno come vi si possa accedere e quando sia opportuno farlo cominciamo subito col dire che l'amministrazione di sostegno è un istituto giuridico che attribuisce poteri di rappresentanza legale con ciò intendiamo fare riferimento alla possibilità di agire in nome e nell'interesse di un'altra persona quindi l'istituto consente di individuare un amministratore di sostegno che affianchi la persona bisognosa che per problemi di salute fisica o psichica non sia più in condizioni di provvedere autonomamente ai propri interessi e assistendola quindi nel compimento di alcune attività o addirittura proprio sostituendosi a lei nel compimento di altre questo in particolare in due ambiti molto importanti quello della gestione e dell'amministrazione del patrimonio da un lato e quello della cura della salute dall'altro che ricomprende al suo interno l'espressione o il rifiuto del cosiddetto consenso informato ai trattamenti sanitari l'istituto è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con una legge del 2004 ha affiancato e oramai in buona parte possiamo dire soppiantato i tradizionali istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione ai quali oramai ha lasciato uno spazio pressoché residuale l'amministrazione di sostegno e ci dice la legge è data nel precipuo interesse della persona che versi anche solo temporaneamente in condizioni di salute fisico psichica tali come dicevamo da comprometterle anche parzialmente la possibilità di soddisfare le normali esigenze della vita quotidiana privandola quindi in tutto in parte di autonomia nel caso in cui il problema sia legato alla sfera fisica cioè di persona che abbia intatte le facoltà intellettive ma si trovi in uno stato di fragilità a causa di menomazioni fisiche l'amministrazione di sostegno può essere attivata laddove la persona sia priva di una rete familiare di una cerchia di prossimità organizzata e funzionale che le consenta di provvedere comunque i suoi interessi nel caso invece più frequente di problema che coinvolga la sfera psichica compromettendo quindi le facoltà intellettive della persona il che avviene ad esempio quando vi sia decadimento cognitivo dovuto a demenza senile o malattia di alzheimer rendendola quindi incapace anche solo parzialmente di intendere e di volere ecco sicuramente l'amministrazione di sostegno potrà essere utilizzata per sopperire a tali mancanze l'incapacità di intendere di volere infatti priva in tutto o in parte la persona della cosiddetta capacità di agire che cosa si intende giuridicamente per capacità di agire è la capacità che si acquista al compimento del diciottesimo anno di età che può subire delle compressioni delle limitazioni nell'arco della vita a causa di eventi che incidano sulle facoltà intellettive e che consente di compiere validamente degli atti idoni a incidere sulle nostre posizioni giuridiche puro titolo di esempio pensiamo allo stipulare contratti vendere comprare sottoscrivere la dichiarazione dei redditi movimentare un conto corrente bancario aprirne o chiuderne avviare le pratiche per l'ottenimento di una prestazione pensionistica ma anche rilasciare ad esempio il consenso informato ad un trattamento sanitario bene vediamo adesso come accedere all'amministrazione di sostegno l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno può essere presentata oltre che dallo stesso interessato anche dal coniuge dal convivente dai parenti sino al quarto grado dagli affini cioè i parenti del coniuge fino al secondo grado dal pubblico ministero eventualmente insomma laddove opportunamente notiziato e anche dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che abbiano in cura e in carico la persona a favore della quale reputino opportuna la nomina di un amministratore di sostegno ricordiamo anche che ciascuno di noi in qualsiasi tempo può designare vale a dire indicare anticipatamente ora per allora come suol dirsi la persona che vorrebbe venisse nominata suo amministratore di sostegno per l'ipotesi della propria eventuale futura incapacità competente a ricevere la domanda è il giudice tutelare presso il luogo presso il tribunale del luogo dove risiede o è domiciliato l'interessato e l'amministratore di sostegno è colui al quale il giudice affiderà il compito di occuparsi della cura e del patrimonio dell'amministrato cioè della persona che beneficerà dell'amministrazione di sostegno quest'ultimo viene scelto o meglio l'amministratore di sostegno viene scelto preferibilmente all'interno della cerchia dei prossimi congiunti dei parenti solo eccezionalmente viene scelto al di fuori della famiglia e dice la legge deve operare avendo sempre riguardo ai bisogni alle richieste e addirittura alle aspirazioni del beneficiario vediamo dunque come al centro dell'attenzione del legislatore questa volta ci sia la persona umana la sua dignità i suoi diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e addirittura le sue aspirazioni laddove ovviamente siano compatibili con il suo bene ciò è piuttosto evidente se pensiamo al fatto che l'amministrazione di sostegno è un istituto molto malleabile diciamo così cioè che può tenere in considerazione vari livelli di incapacità e quindi si può adattare alle più svariate situazioni questo perché il giudice tutelare può decidere liberamente sulla base ovviamente delle risultanze processuali quali certificati medici eventuali perizie l'esame diretto della persona ad amministrare testimonianze dei familiari e così via di lasciare più o meno spazio all'interessato comprimendo la sua capacità di agire a seconda del grado di invalidità e quindi del livello di capacità residua quindi mentre con interdizione si privava del tutto la persona della propria libertà di azione con l'amministrazione di sostegno laddove vi siano delle aree funzionali ancora integre l'amministrato ben potrà esprimere la propria volontà sulle scelte che lo riguardano a volte agendo autonomamente altre volte concordando tali scelte con l'amministratore che lo affianca per quanto riguarda il procedimento per promuovere l'amministrazione di sostegno occorre come abbiamo detto presentare un'istanza sotto forma di ricorso al giudice tutelare abbiamo detto del tribunale del luogo dove l'interessato alla residenza o il domicilio il procedimento ovviamente non può prescindere dall'esistenza di adeguata documentazione medica che attesti le problematiche di salute dell'interessato problematiche che lo privano ovviamente di autonomia il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno emesso dal giudice tutelare cioè provvedimento con cui si chiude il procedimento conterrà una dettagliata indicazione di tutto ciò che l'amministrato eventualmente potrà continuare a fare da solo e di cosa invece sarà lasciato all'assistenza necessaria o addirittura l'azione esclusiva dell'amministratore quest'ultimo una volta all'anno sarà chiamato a rendere il conto del suo operato diciamo subito che per amministratori di sostegno che non siano professionisti o avvocati ma normali cittadini si tratta in genere di un'attività piuttosto semplice cioè di una banale partita doppia dove vengono riportate e giustificate da un lato le entrate e dall'altra parte le uscite economiche quando l'amministratore agisce e opera in nome e nell'interesse della persona sottoposta ad amministrazioni di sostegno lo fa dunque sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che gli conferisce tale potere erga omnes cioè di fronte a tutti quindi la pubblica amministrazione uffici pubblici i curanti privati come le banche altri familiari e via dicendo il procedimento salvi casi particolari è normalmente piuttosto snello e cedere e dice la legge si dovrebbe concludere entro 60 giorni per promuoverlo ci si può rivolgere ad un legale per la presentazione del ricorso l'allegazione dei necessari documenti e per tutte le attività correlate oppure si può anche far da soli si può anche agire in autonomia seguendo le indicazioni che ecco in tempi diciamo così normali vengono dispensate dalle competenti cancellerie o reperite sui siti dei tribunali e che oggi viste le maggiori difficoltà ad accedere alle cancellerie dovute all'emergenza sanitaria possono essere reperite presso gli sportelli al pubblico gestiti prevalentemente da volontari sia presso molti comuni che presso diversi tribunali fra cui quello di Ravenna bene detto questo vediamo quando è opportuna la nomina di un amministratore di sostegno punto piuttosto cruciale quest'ultimo e infatti è uno dei principali dubbi che affligge molti quello di capire fino a quando sia bene o possibile diciamo così gestire le questioni burocratico amministrative del proprio caro sostituendosi solo di fatto a lui e quando invece sia bene opportuno regolarizzare la propria posizione assumendo la giuridica rappresentanza di una persona ormai priva della capacità di agire ovviamente questo limite questa soglia è mutevole e varia da caso a caso non c'è una regola standard diciamo anzitutto che è bene precisare che sostituirsi all'interessato nel compimento di atti giuridicamente rilevanti senza però averne titolo un titolo potrebbe essere ad esempio una procura notarile dicevo sostituirsi all'interessato senza averne titolo può infatti dar luogo a violazioni più o meno gravi della legge quindi può comportare per chi si sostituisce diciamo senza titolo il rischio di incappare in sanzioni ancora è bene dire che è opportuno il ricorso all'istituto sicuramente quando i conflitti endofamiliari cioè in seno alla famiglia all'interno della famiglia superino il limite di normale tollerabilità e quindi rendano difficile giustificare e rendicontare spese sostenute col denaro della persona bisognosa magari nel suo esclusivo interesse agli occhi di altri familiari che magari non ripongono in noi particolare fiducia e da ciò può ovviamente scaturire del contenzioso dei litigi della conflittualità diciamo che più in generale ogni qualvolta le persone che fanno parte della cerchia di una di prossimità di una persona non autosufficiente cioè i cosiddetti caregivers si trovano a dover affrontare l'insorgenza di problematiche giuridico burocratiche anche legate alla cura può sicuramente risultare opportuno nominare un amministratore di sostegno ecco che diventa a quel punto il necessario supporto per consentire anche al beneficiario di attraversare il più serenamente possibile questa delicata fase della sua vita. Infine questo è un punto molto importante direi che è consigliabile rivolgersi a questo istituto pur senza abusarne ovviamente quando la gravità delle condizioni del proprio caro sia tale da richiedere una rappresentanza e una tutela diciamo a 360 gradi cioè non solo sul lato prettamente economico e patrimoniale ma anche e soprattutto su quello della cura e dell'assistenza in genere esigenze queste ultime che non sarebbero soddisfatte ad esempio da una procura generale notarile per limiti intrinseci a questo tipo di atto quindi ricordiamo che la legge 1219 del 2017 la legge che per la prima volta ha disciplinato fra le altre anche la materia del consenso informato di cui abbiamo avuto occasione di occuparci lungamente questa legge in buona sostanza e semplificando molto attribuisce all'amministratore di sostegno della persona incapace il compito di esprimere o rifiutare il consenso informato non dimentichiamoci di questo aspetto soprattutto adesso in tempi in cui anche a causa delle oggettive difficoltà che sta attraversando il servizio sanitario nazionale per via dell'emergenza sanitaria i familiari possono incontrare difficoltà ad essere coinvolti pienamente nella relazione terapeutica ecco allora che è bene sapere che il congiunto che sia anche divenuto amministratore di sostegno ha diritto di rapportarsi con i curanti di ottenere da loro delle informazioni di rappresentare il beneficiario esprimendo o rifiutando il consenso informato in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria cioè il decreto di nomina di cui parlavamo bene chiudiamo questa veloce esposizione ricordando come in tutto ciò sia centrale il ruolo e la figura del medico segnatamente quello di medicina generale al quale l'interessato sia assegnato quale paziente ma ovviamente anche quello degli specialisti in geriatra in neurologo eccetera questo perché come abbiamo detto il procedimento che può eventualmente portare all'attivazione dell'istituto di protezione quindi alla nomina di un amministratore di sostegno non può prescindere dall'acquisizione di una adeguata documentazione medica pertanto il ruolo del medico è sicuramente fondamentale in tutte quelle situazioni in cui la persona sia totalmente assente diciamo attorno alla persona sia assente una cerchia di prossimità manchino quei protettori naturali e dalla collettività pervengano al medico che per il ruolo che ha ricopre assume una posizione di garanzia delle segnalazioni di disagio di problematiche di tipo psichiatrico ecco in una situazione di questo genere il medico potrà e a mio avviso dovrà anche soppesare l'opportunità di una nomina eventualmente con il supporto di valutazioni specialistiche e poi se del caso segnalare la situazione ai servizi sanitari e sociali affinché provvedano a prendere in carico la persona e a depositare autonomamente un'istanza di nomina ma il ruolo del medico è importantissimo anche laddove invece i parenti vi siano perché over avvisi l'opportunità di una nomina potrà ben parlarne con con i familiari con i parenti eventualmente indirizzarli verso soggetti pubblici o privati che gli possano fornire tutte le informazioni del caso e aiutarvi a comprendere ecco se sussistano effettivamente i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno bene detto questo mi sembra di aver dato tutte le informazioni fondamentali sul tema il tempo a nostra disposizione è terminato io spero di essere stato sufficientemente chiaro e anche se non posso sentire né rispondere alle vostre domande ecco sapete come raggiungermi anche contattando le associazioni alzheimer ravenna e ravenna parkinson onlus un caro saluto a tutti e arrivederci a presto grazie a tutti